non risponde rispondi no proviamo col numero rosso pronto nico che te possino ammassa che figura che ci hai fatto fare Roccatepapa ammannaggia la misericiamo un candidato sindaco rampante non ti sei fatto vede durighe niente ma io non lo so ma che si fa così no no ci stanno scuse nico questa te la carichi tutta tu e le odori e le odori no no questo deve essere chiaro ci hai fatto fare una figura io non lo so sto proprio partito democratico ridotto proprio i minimi termini non vi siete impegnati non siete venuti affrascati ci sei nato affrascati ci sei nato a Roccatepapa no e questo è male questo è male con i gol no 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 mi dispiace non ti inventa scuse tu e le odori proprio siete spariti dalla circolazione sì sì ma ti voto io il resto ti voto io non ti preoccupi